Hai un video? Sì Allora cosa vi diamo? Ho appena svelato che io volevo solo questa candela stasera Tu mi hai pregato subito, mi hai sgamato subito Giorgetto Come amica volevo solo questa candela e basta Questo video non è vero Non è vero perché io non potrei mai stare senza di voi perché vi amo troppo Alla salute, ciao